buongiorno sono anna maria sono di origine rumena e vivo in italia da vent'anni ho due ragazze da dieci anni e quattordici anni lavoro in un supermercato e nel tempo libero mi piace fare i dolci per questo ho acquistato il corso di pasticceria classica e moderna perché voglio imparare a fare le torte bene e mi piace molto il metodo di insegnamento dello chef andrea di giglio e faccio i miei complimenti per la sua bravura per la sua dedizione e per la sua pazienza per la sua professionalità e anche la sua assistente fiorella quindi vi ringrazio di cuore per per tutto quello che fate perché ci rispondete velocemente alle nostre domande sulla piattaforma grazie e buona giornata